È un motivo di grande orgoglio fare questa proclamazione che segue due giorni di discussioni, devo dire con risultati che anticipo, brillanti e che ci consentono come fondatori in qualche modo di questo corso di studi in un territorio che ha grandi potenzialità di essere fiduciosi su quello che è la prospettiva di questi laureati, infatti abbiamo organizzato una cerimonia che prevede anche il job placement del delegato di Ateneo. Sono ragazzi che sono già pronti alla professione, sono ragazzi che hanno presentato dei lavori molto interessanti che mettono a fuoco quelli che sono i principi fondanti di questo corso di studio, quindi i valori etici e la professione prima di tutto, la sostenibilità, l'inclusività, il rapporto con il territorio che per noi è un valore primario e non a caso durante questo percorso i nostri ragazzi hanno lavorato moltissimo con le professionalità presenti sul territorio calabrese e non solo e da loro hanno avuto consigli, suggerimenti, hanno imparato dalla loro esperienza e noi auguriamo a questi ragazzi il meglio di poter andare sempre più avanti portando in alto il nome della Calabria e della nostra Mediterranea. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!